Ed eccoci qui ragazze e ragazze in compagnia del vostro Diabrotex per questa prima collaborazione con Plyon Italia di questo nuovissimo anno, di questo 2024. Come sempre ringrazio tutto lo staff di Plyon Italia per avermi concesso di portare Like a Dragon Infinite Wealth in versione PlayStation 5 sul mio canale YouTube. Ringrazio Sara di Plyon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Like a Dragon Infinite Wealth in versione ovviamente PlayStation 5 da condividere qui con tutti voi. Ringrazio tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale ma anche i non iscritti. Io adesso direi diamo il via a questa nuova collaborazione e questa nuova serie, mi raccomando massimo supporto ragazzi e gradirei un ringraziamento anche da parte vostra a tutto lo staff, al meraviglioso staff di Plyon Italia. Quindi possiamo iniziare e noi ci sentiremo tra poco. Grazie a tutti i nostri spettatori di Plyon Italia. Grazie a tutti i nostri spettatori di Plyon Italia. Grazie a tutti i nostri spettatori di Plyon Italia. Grazie a tutti i nostri spettatori di Plyon Italia. Allora finisit Time for your reward 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 Grazie a tutti 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 Allora usciamo da qui innanzitutto che è un parcheggio Restare in un parcheggio non credo sia il mio forte Quindi Vediamo un attimino qui E ne abbiamo da fare Secondo me ragazzi sarà una bella serie Sarà una serie molto lunga E molto impegnativa E su questo non ho Ombra di dubbio ma Ovviamente sarà una serie Veramente Che ci farà divertire molto Tutto questo ve lo posso assicurare Ve lo posso assicurare Grazie a tutti Ciao Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti per aver guardato il video. benissimo si passa subito lo scontro allora selezionare i comandi usa il menu dei comandi in basso a sinistra per scegliere le azioni da compiere in battaglia seleziona attacco per eseguire un attacco di base forza fai del tuo meglio e colpisci il nemico va bene siamo nella fase di tutorial e tutto va molto molto bene dito nella piaga seleziona velocemente attacco prima che un nemico atterrato si rialzi per colpirlo e infliggergli i danni ancora più gravi e allora sono d'accordo sono d'accordissimo ragazzi allora tecniche incredibili quindi vediamo un po' seleziona tecniche per scatenare una potente abilità consumando consumando pt punti tecnica giustamente i tuoi punti tecnica sono indicati dalla cifra verde in basso a destra recupera i punti tecnica con attacchi di base o selezionando altro le tecniche attiveranno i comandi a schermo che aumenteranno i danni inflitti se si premono correttamente correttamente tasto quadrato oppure triangolo vediamo un po' tecniche ehm si al momento abbiamo solo pugno tenace proviamo un po' bah insomma dai la difesa perfetta vediamo un po' premi cerchio il tasto cerchio nel momento in cui subisce un attacco per eseguire una difesa perfetta che riduce i danni subiti e la possibilità di subire un'alterazione ok puoi eseguire una difesa perfetta se sei in grado di agire anche se si tratta di una tecnica avanzata prova a utilizzarla il più possibile ok io provo ragazzi eh ok per ora è tutto la barra rossa in basso a destra mostra i tuoi punti salute se i punti saluti del leader scendono a zero è game over puoi recuperare eh saluti usando oggetti perciò metti qualcosa sotto i denti se hai bisogno di ricaricarti qui si conclude il tutorial di battaglia adesso tocca a te ok allora vediamo un po' vediamo un po' attacco andiamo su altro giustamente poi si va su oggetti recupero giusto così per provare stiamo solo momentaneamente provando ragazzi ora si va all'attacco vai game over per il nostro avversario esperienza esperienza lavoro livello 2 raggiunto rango 1 e ci siamo nuovo livello ragazzi ovviamente aumentano un po' le statistiche come si può ben vedere e possiamo proseguire per il momento per il momento non non Cosa? Cosa? A un altro... Oh! Cosa! Cosa? Cosa! Cosa? 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 Cosa دائ 거라, 이 짓. Gut. Cosa... No, non è vero. Alla prossima Sì 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 Allora Personalità Vediamo un po' La personalità di Kasuga è rappresentata dai seguenti tratti Ardore Autostima Carisma Bontà Acume E stile Bene Migliorare le personalità di Kasuga gli farà ottenere dei vantaggi Come una resistenza migliore alle tecniche e alterazioni dei nemici Nonché l'accesso a nuove strutture Bene Affinare la personalità di Kasuga Una chance personalità E un'opportunità per migliorare la personalità di Kasuga Le cui statistiche aumentano a seconda delle scelte effettuate Anche affrontare con successo le sfide personalità E un buon modo per affinare le statistiche Consultare tramite il menu pausa Le devo consultare Io quasi quasi vado al lavoro Poi vediamo il resto Non vorrei fare tardi sinceramente Sono un tipo molto puntuale Quindi Quasi quasi vado Poi magari più avanti vedremo Anche tutto il resto Via Vado nel mio ufficio Tanto sono quasi Arrivato Spero di non essere in ritardo Per il resto va tutto Tutto abbastanza bene Quindi Ed eccoci qui Spero di non essere in ritardo Spero di non essere in ritardo Spero di non essere in ritardo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.